Ciao a tutti vediamo come cancellare l'account di Mediaset Infinity da un dispositivo Android ci basta aprire l'applicazione di Mediaset Infinity in alto a destra dovreste vedere l'icona che indica l'utente vicino alla balla di ricerca voi premete a questo punto vi si apre un menu voi selezionate area utente aspettate che carica e selezionate i tuoi dati avrete una schermata ripilogativa con i vostri dati voi premete sotto dove c'è scritto modifica dati anagrafici scendete fino in fondo dove trovate cancella account premete su cancella account vi chiede di confermare la cancellazione voi confermate la cancellazione dell'account dopodiché vi manderà un messaggio così il tuo account è stato cancellato ecco qua se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento ciao ciao